La storia inizia nel 1987 con la scoperta di una necropoli in località Santa Spontanea, nel comune di Rapino. Dall'inpoi si apre una battaglia di tutela del territorio contro le cave. Il primo, esposto alla magistratura, arriva nel 1988 ed era proprio l'archeoclub a produrlo. Nel 1991 veniva messa in luce una grotta preistorica detta degli Orsi Volanti, sottoposta in seguito a vincolo archeologico. Nel 1999 arriva il secondo, esposto alla Procura della Repubblica di Chieti. Nello stesso anno arriva anche il sequestro di una cava, grazie all'intervento del comandante del Corpo Forestale dello Stato di Guardia Grele. Nell'agosto del 2006 arriva il terzo, esposto alla magistratura da parte dell'archeoclub e dall'inpoi una serie di richieste di intervento che ad oggi non hanno prodotto il risultato tanto sperato, la salvaguardia del sito. La cosa gravissima è che in tutti questi anni l'ufficio cave della regione è stato latitante, perlomeno latitante. C'è un episodio gravissimo segnalato da un comandante di stazione del Corpo Forestale dello Stato, che dopo aver sequestrato una cava perché aveva violato tutte le norme, era stato rimproverato dai funzionari della regione Abruzzo. Io ho parlato con il nuovo sottosegretario Mazzocca, il quale è favorevole a fare una riunione da noi richiesta di intervento, è una riunione per studiare come progettare, difficilissimo progetto da realizzare per recupero ambientale di queste cave. Speriamo bene.